Lo aveva garantito alla vigilia della trasferta di Aversa e dopo la sconfitta nel recupero contro il Brindisi Michele Pazienza, il tecnico del Cerignola aveva assicurato il massimo impegno della sua squadra sino al termine di questo campionato. Le ultime quattro gare degli Ofantin non a caso sono partite con la vittoria esterna contro i Campani. Gol di Malcore, nuovo capocannoniere solitario del girone H di Serie D e doppietta di verde nel 3-1 conclusivo inflitto all'Aversa. C'è stata una buonissima prestazione da parte dei miei ragazzi, era la terza gara in sette giorni, non era affatto semplice perché bisognava dosare le energie fisiche e mentali e avevo chiesto nel pre-gara, nel preparare anche la partita, un'interpretazione diversa da quella che è sempre stato il nostro modo di giocare, con una maggiore gestione perché avevamo gli uomini contati e avevamo le energie contate, quindi i ragazzi sono stati molto, molto bravi. Il Cerignola, pur non avendo teoricamente obiettivi da raggiungere, è ora stabilmente nella parte sinistra della classifica, ottavo posto con 46 punti all'attivo. Se avesse fatto risultato a Brindisi, il finale degli Ofantini avrebbe potuto assumere anche significati diversi, ma il giudizio è sicuramente soddisfacente. Questi ragazzi nelle difficoltà tirano fuori sempre qualcosa di straordinario e questo è sintomo che alla base ci sono dei valori morali importanti, oltre che tecnico-tattici. Il Cerignola vuole spingere sino in fondo, vuole ottenere il massimo anche delle ultime tre partite di questo campionato. Domenica arriva il Fasano al Monterisi, poi il Super Derby allo Iacovone contro la Capolista Taranto e la chiusura in casa con il Nardò.